Canicati domenica ospiterà la prima edizione della mezza maratona con la staffetta. Quest'anno è la prima volta che si organizzerà a Canicati una mezza maratona staffetta, organizzata dalla SD Atletica Canicati, è un'associazione sportiva e delettandistica formata quest'anno, nel 2015, costituita dall'Alegata Maurizio, Antonio Gerratana e da Rambulla. I nostri obiettivi sono quello di promuovere e organizzare lo sport a Canicati considerando il fatto che in assenza di spazi pubblici noi cerchiamo di aggregare più persone possibili e questa manifestazione ha lo scopo di promuovere lo sport in un contesto storico molto difficile. Qual sarà il percorso? Il percorso, quindi la partenza, sarà da Piazza San Diego fino alla Rotonda, fino al Viale della Vittoria. Quindi chi farà la mezza maratona, avrà la possibilità di fare o la mezza maratona da single oppure la mezza maratona staffetta. Chi farà la mezza maratona single dovrà fare dieci giri di questo percorso e all'incirco a due chilometri. Oppure a staffetta saranno cinque giri. Quanti sono i partecipanti? Fino ad oggi abbiamo delle prescrizioni che saranno all'incirca 70-80 partecipanti più o meno all'incirca. Presidente, da cosa è nata l'idea di far nascere e auguriamoci anche di far crescere questa associazione? L'esigenza nasce da un motivo molto semplice. Molti atleti che sono proprio di Canicati e qualcuno di Delia, che facevano parte di diverse società dei paesi limitrofi, ad un certo punto hanno lanciato questa proposta di far nascere una società podistica qui a Canicati per coagulare e per mettere assieme tutti questi atleti di Canicati. Questa è la prima edizione di questo evento. In cantiere cosa è l'associazione? Allora, questa è la prima edizione qui a Canicati e speriamo che possa continuare anche negli anni successivi. A Delia è stata realizzata una gara podistica e speriamo che possa continuare, ma non solo a Delia, ma anche qui nei dintorni di Canicati. Allora, questa è la prima edizione di Canicati.